ragazzi bentornati in questo nuovo video sono frank494 e questo nuovo video farò la seconda e ultima parte del video dove parlerò degli elettrotreni italiani e grazie mille per i 65 iscritti ragazzi siamo arrivati a 65 grazie mille e avevo lasciato lo spoiler che è questo l'etr 460 infatti partiamo proprio dall'etr 460 questa seconda parte allora l'etr 460 appartiene alla terza generazione del pendolino insieme agli etr 470 e gli etr 480 che ne parlerò tra poco fu progettato nel 1992 fu in costruzione dal 1993 al 95 ed è in esercizio dal 1994 furono prodotti dieci treni e sono ancora tuttora in servizio mi piacerebbe davvero salirci su uno di questi il costruttore fiat ferroviaria e treno alimentato a tre chilovolte corrente continua e la velocità massima è di 250 chilometri orari ed è un elettrotreno italiano a monotensione ad assetto variabile quindi con cassa oscillante però adesso l'unico treno con cassa oscillante l'unico elettrotreno è l'etr 600 non parlerò in questo video perché la juve sta vincendo vabbè e non parlerò in questo video perché non è un elettrotreno italiano perché è stato costruito dalla alstom ferroviaria che è una società francese quindi parlerò solo degli elettrotreni esclusivamente italiani adesso vi parlo dell'etr 470 ok aspettate eccolo qui l'etr 470 che è stato progettato costruito ed è entrato in esercizio poco tempo dopo adesso vi dico fu progettato nel 1994 era in costruzione dal 1996 al 1997 ed è in esercizio ancora tutto da oggi dal 1997 però nei prossimi anni sarà questi treni saranno trasferiti in grecia per le ferrovie greche e furono prodotti 9 treni costruttore fiat ferroviaria e alimentato a 3 kilowatt corrente continua e qui ed è il fratello gemello quindi dell'etr 460 e dell'etr 480 che ne parlerò tra poco e la velocità massima come tutti e tre e di 250 chilometri orari e faceva parte la flotta di cisalpino come possiamo vedere qua proprio nella librea e si ragazzi l'etr 480 e si ragazzi l'ho visto spesso a milano centrale ed è davvero un bel treno mi piace un sacco e adesso passiamo all'etr 480 eccolo qua l'etr 480 che aspettate un attimo poi devo smettere di dire aspettate un attimo perché comunque taglio perdonate è l'abitudine e l'etr 480 come è stato progettato costruito ed è entrato in esercizio pochi di tempo dopo l'etr 470 è stato progettato nel 1996 gli anni in costruzione dal 1997 al 98 e gli anni in esercizio dal 97 al 2005 però sono stati tutti trasformati in etr 485 e quindi da mono tensione sono diventati in poi tensione e sono alimentati a 3 kg volte corrente continua e la loro velocità massima è di 250 chilometri orari il costruttore i costruttori anzi sono fiat ferroviaria e alstom ferroviaria quindi italo francese adesso vi dico proprio lascio questa immagine l'etr 485 è stato progettato nel 2004 anni di costruzione dal 2005 al 2006 sono state delle trasformazioni degli atr 480 quindi ve l'ho detto già prima gli anni d'esercizio dal 2005 sono in servizio tuttora oggi sono dei frecci argento si sono preci argento sono stati prodotti 15 treni costruttori sono fiat ferroviaria e alstom ferroviaria comunque erano etr 480 l'avevo già detto prima sono alimentati a 3 kg volte corrente continua e la loro velocità massima vabbè 250 chilometri orari adesso cambiamo elettrotreno in realtà li abbiamo già cambiati anche prima però adesso si cambia proprio del tutto lasciamo la terza generazione del pendolino ci trasferiamo in un nuovo elettrotreno ed eccolo qua ed eccolo qua fotografato da me l'etr 500 fiora l'occhiello delle ferrovie italiane tuttora oggi insieme all'etr 400 che ne parlerò tra poco è stato progettato nel aspettate è stato progettato dal 1983 al 1985 è stato in costruzione dal 1988 al 2007 ed è in esercizio dal 1990 ancora oggi però ha avuto una serie di trasformazioni perché prima era il convoglio era capitanato dalle e 414 invece adesso dalle e 404 quindi adesso non è più eurostale italia ma è frecciarossa sono stati prodotti 62 convogli e ci sono un treno merci quindi acquistato da mercitalia rail e poi ci sono due treni diagnostici che la jace e il diamante quindi aspettate oh cavolo qua sta partendo via la batteria prova a far veloce la velocità massima è di 300 chilometri orari ed è alimentato a 3 chilovolta e corrente continua adesso andiamo con l'ultimo elettrotreno del video ha comunque questo qui ragazzi per curiosità è davvero il fiora l'occhiello delle ferrovie italiane come ho detto prima stato progettato un prototipo e io già detto che è stato costruito dal consorzio trevi ovvero da aspettate ok vedo un attimo la batteria quindi il consorzio trevi è stato fondato da ansaldo breda fiat ferroviaria abbi tecno masio e firema trasporti fu chiuso nel 2003 vabbè adesso andiamo con l'etr 400 eccolo qua anche questo fotografato da me ma comunque le ho trovate le altre foto tutte su wikipedia a parte il frecciarossa 1000 eccolo qua l'etr 400 frecciarossa 1000 fu progettato nel 2010 al 2012 e in costruzione dal 2013 ed è tuttora in costruzione ed è in esercizio dal 14 giugno 2015 sono stati prodotti 87 convogli uno si è accidentato con incidente di poco tempo fa a lodi e il costruttore è ansaldo breda bombardier e itaki rail italy e la velocità massima è di 360 chilometri orari è alimentato a 3 kilowatt corrente continua e davvero il fiore all'occhiello delle ferrovie italiane insieme all'etr 500 e può raggiungere anche i 400 chilometri orari e ho preso parecchie volte devo dire che davvero un grandissimo treno adesso stacco il video ragazzi per questo video è tutto lasciate un mi piace iscrivetevi al canale e ciao a tutti ci vediamo con un prossimo video al prossimo weekend spero che vi sia piaciuto ciao a tutti spero che vi sia piaciuto